Grazie per averci scelto, anche oggi Pierluigi Barra e Stefano Nava, siamo pronti, Stefano sei carico? Carico, carichissimo, sto esplodendo Pier, stiamo aspettando solo il fischio di inizio del direttore di gara Vediamo come scendono in campo i padroni di casa Occhio alla botta, splezino il tiro che finisce alto Guadagna metri verso l'area, ha spazio per andare Ecco il tiro, pallone fuori di poco Ha riuscito lo stesso a calciare nonostante fosse pressato dal difensore, difficile fare meglio La squadra ospita può contare su una difesa praticamente imbattibile La meno superata, la meno battuta del campionato Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme E permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata Occhio al suo movimento, palla vagante Se continuano così, ovviamente nessun obiettivo sembra precluso Sì, sono nelle posizioni alte e hanno i numeri ad arrivare davanti a tutti Ha spazio per tirare Tiro tutt'altro che inserioso questo, parato facilmente dal portiere Oscar Guadagnametri, guadagnametri Guadagnametri, occhio al traversone Inquilibile, traversa non è... E c'è la conclusione Hanno scelto un approccio aggressivo al match e sono stati ripagati Avanti dopo pochi minuti Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore Per sfruttare il momento favorevole o se tireranno un po' il fiato Splendido gol di prima intenzione al volo Davvero una giocata incredibile Pier, incredibile Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0 Oscar Si avvicina all'area Prova a sorprenderlo Ne hanno fatto subito un altro Ora sembrano davvero inarrestabili Stefano Stanno approfittando del passaggio a vuoto degli avversari Hanno raddoppiato, adesso sono avanti 2-0 Nolan C'è spazio per andare Il traversone sul... senza problemi qui il portiere Ha spazio per andare Ultimo tocco del difensore, si ripartirà col corner Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori In queste condizioni è fondamentale Pier Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido Ha provato con potenza dalla distanza L'idea non era neanche male L'esecuzione, molto meno E il portiere accompagna la palla fuori con lo sguardo Senza giustamente intervenire Nolan Occhio cerca l'area di rigore E c'è il tiro Palo, ma il pallone torna in campo, pericolo Apre di testa Punta l'area Bravo qui l'attaccante, attenzione però al pressing C'è un buon anticipo Nolan Gran palla in mezzo Baragna metri verso l'area Ma rimette in mezzo Super intervento nel portiere Distinto, riflessi, senso della posizione C'è tutto questo in... Questo fantastico riflesso nel portiere sull'attaccante Ha dimostrato senso della posizione Riflessi fuori al comune Travi qui a bloccare tutto Occhio al suo movimento Occhio a questo lancio Cerca la porta Pallone che finisce Ma solo nelle intenzioni Palla che non ha preso il giro voluto Terminando la sua corsa Lontana, lontana Ci sono metri a disposizione Arbitro che qui potrebbe tirar fuori il cartellino Buono l'anticipo del difensore Guadagna metri Occhio al traversone La difesa alla meglio E allontana il pallone Ottimo tiki-daka Prova E il portiere recupera il pallone Azione interrotta Si avvicina all'area E dopo 45 minuti di gioco Dunque 2-0 Il punteggio Tutto pronto L'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara Buono il recupero Possono ricominciare Nolan C'è spazio per andare Palla in mezzo Dopo un buon intervento Oscar Murato dal difensore Hanno spezzato bene La trama qui Cerca addirittura la porta Buona la chiusura Occhio cerca l'area di rigore Grossa ingenuità qui Concedono una punizione pericolosa Vuole la scossa E questa sostituzione Per lui può essere utile Da lì può andare col cross C'è stata la deviazione del difensore Sarà dunque calcio d'angolo Occhio al corner Attento qui il difensore Che allontana Nolan Intervento comodo Della difesa Attenta qui la difesa Palla allontanata Contrasto riuscito Palla che rotola via Se ripartirà dal rinvio Del portiere Dal fondo Devono assolutamente Riorganizzarsi Hanno bisogno di energie Anche psicologiche In questo match Possono ripartire Dopo il recupero Del pallone Oscar Buono l'1-2 Guadagna metri Verso l'area Ha perso il pallone La difesa La difesa Sembra messa male Attenzione Sì Non buona L'organizzazione difensiva Mancano 20 minuti No land No land Ci sono metri a disposizione Ottimo intervento di Ottimo intervento difensivo Nel pallone Le palla caccia dello spazio Conclusione da cancellare Ottima lettura Recuperano il pallone Seicento secondi da giocare Ancora Decisamente favorevole Questa Prova la botta Palo E non è finita Attenzione All'ottana di pugno Il portiere Pericolo Ecco il tiro Ha sprecato Una grande occasione Le condizioni Non l'hanno Sicuramente aiutato In questa conclusione Apre di testa Punta l'area Gran tiro Parata su Tutto fermo Si era liberato bene Ma sale Alta La bandierina Del guardaline Fermata Un'azione spettacolare 180 secondi alla fine Occhio Cerca l'area di rigore Nessun problema Per il portiere Occhio che guadagna metri Cerca la rete Filo completamente Match Che finisce qui Hanno giocato bene E hanno Comunque Di testa Di testa anti E Vi 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 Grazie a tutti.